Amici carissimi ben ritrovati sui nostri teleschermi in Corso Grosseto 18 a Torino una delle tre sedi Queen Car protagonista quest'oggi dei nostri teleschermi soprattutto protagonista come sempre il risparmio al mio fianco è un vero piacere rivedere Fabrizio Mussino Ciao a tutti ben ritrovati qua abbiamo una sede dove abbiamo più di 400 autovetture a chilometro zero con sconti fino al 51% ma qui siamo concessionaria ufficiale Sayog Mitsubishi dove trovate tutti i servizi vendita post vendita quindi servizio assistenza, servizio ricambi, servizio magazzino ma soprattutto anche le garanzie quindi se avete un problema sull'autovettura potete venire qui in Corso Grosseto 18 dove vi aspetta un servizio assistenza eccellente garanzia, affidabilità, soprattutto un vastissimo assortimento tra cui scegliere l'auto dei vostri sogni dove potete provarla, sceglierla, portarla a casa perché qui da Queen Car si paga poi si paghi il prossimo anno, gennaio 2020 la prima rata con 5 anni di garanzia 5 anni di assistenza, 5 anni di furto, incendio, casco gomme termiche già incluse una cosa è certa amici con Queen Car si risparmia sempre soprattutto questo mese c'è una preparazione all'autunno un'operazione dove non solo c'è il risparmio ma anche la possibilità di portare a casa un'automobile e pagarla nel 2020 io direi di non perdere altro tempo e di affidare a Fabrizio la scaletta di Queen Car passate con noi Nuova Siong Tivoli 1.6 benzina, benzina CPL, turbo diesel cambio manuale, cambio automatico pensata a chilometro zero oltre il 35% di sconto a partire da 13.900 euro solo 100 vetture prodotte parliamo della Tivoli Green Sound 1.6 benzina, benzina CPL full optional a soli 17.900 euro Tivoli Road benzina CPL cambio manuale, cambio automatico GPL, l'unica autovettura con cambio automatico GPL a partire da 17.900 euro la nuova XLV una Tivoli allungata pensate più di 30 centimetri in più di bagagliaio 1240 litri il vano bagagliaio a partire da 15.900 euro il SUV di lusso casa Sayog parliamo del nuovo Rexon 2002 turbo diesel 180 cavalli cambio manuale cambio automatico 5-7 posti tutte autovetture in pronta consegna pensate listino 48.000 euro solo da qui cara a chilometro zero 31.900 euro vi aspetto questo sabato ve lo diamo in prova un giorno intero qui car concessionario ufficiale Mitsubishi presenta la Space Star 25 chilometri con litro e benzina 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 GPL tutte in pronta consegna a chilometro zero 7.900 euro zero anticipo prima rata a gennaio 2020 con 5 anni di furto incendio casco gomme termiche già incluse addirittura la manutenzione inclusa tutta la gamma Mitsubishi SX 1.600 benzina benzina GPL tutte in pronta consegna attenzione al prezzo 14.950 euro tutta la gamma Mitsubishi L200 doppia cabina club cab intensi inviting in pronta consegna chilometro zero 30% di sconto può essere vostro a partire da 18.900 euro più IVA tutta la gamma Mitsubishi Outlander 2.000 benzina benzina GPL attenzione al prezzo a partire da 23.900 euro Hyundai X20 1.6 benzina GPL a chilometro zero full hop attenzione al prezzo 13.900 euro con l'operazione Evergreen Nissan Micra 1.5 turbo diesel 1.2 benzina a chilometro zero attenzione al prezzo 10.900 euro Peugeot 3.800 a chilometro zero 23.900 euro Hyundai Tucson 1.6 benzina a chilometro zero a partire da 17.900 euro Lancia Y aziendale con l'operazione Evergreen 7.900 euro Fiat 500 cabrio cambio automatico aziendale a soli 8.900 euro la nuova Maindra QV100 l'unica City Cross benzina GPL a partire da 10.900 euro la nuova Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 turbo benzina o 2.200 turbo diesel a chilometro zero il prezzo più basso dell'Italia l'Eclipse a 17.950 euro sempre solo proposte straordinarie qui da Quincara pensate che questi erano solo degli esempi perché come dice sempre Fabrizio sono oltre 400 le vetture a disposizione tante chilometri zero vuol dire vetture nuove semplicemente immatricolate con sconti fino al 51% risparmio assoluto non solo per acquistare la vostra auto ma anche l'affidabilità del post vendita garanzia dell'officina del magazzino ricambi dell'assistenza tutto in sede sì perché questo mese Quincara oltre che farvi risparmiare sul prezzo dell'autovettura vi fa anche risparmiare sul prezzo del tagliando l'IVA la paghiamo noi il tagliando è scontata del 22% e se avete non acquistato da noi non nessun problema portate l'autovettura nell'assistenza che il tagliando è scontato del 22% insomma Quincara una certezza nel campo delle automobili avete ben tre sedi a disposizione Carmagnola via Poerino 6 Torino Corso Grosseto 18 Pianezza via Susa 52 non avete più scuse non perdete altro tempo se dovete acquistare un'automobile questo è la concessionaria giusta ed è il momento giusto io ti ringrazio Fabrizio alla prossima ciao a tutti vi aspettiamo numerosi alla prossima